2 su 3, dunque non così tante sfide, insomma in questa versione dei playoff cambia di anno in anno praticamente quasi, dal vostro punto di vista che cosa cambia? No, no, per noi non cambia molto, sicuramente il fatto che ci siano meno partite da un lato è meglio perché lo sforzo è minore, fisico è minore, però c'è anche meno possibilità. In che condizioni arrivate a questa partita, sia psicologica sia fisica? Beh, fisica è ripresa per fortuna, quindi stiamo tornando tutte, chi per influenza, chi per, insomma, quindi questa è una buona notizia e a livello psicologico dobbiamo riuscire a giocare bene. Playoff che iniziano con quale spirito per te? Credo che sia da parte mia che tutta la squadra i playoff siano proprio l'inizio di un nuovo campionato, perché tutto comunque se si mette quel punto interrogativo perché è quello che conta alla fine lo scudetto, parliamoci chiaramente, quindi dà la possibilità a tante squadre, in modo particolare spero tantissimo anche alla nostra, di comunque di voltare pagina e di iniziare veramente, cioè nel senso a focalizzare l'attenzione su quello che è l'obiettivo più grande del tutto il campionato che ci siamo sempre fissati sin dall'inizio. Voltare pagina perché proprio comunque lasciamo un periodo che abbiamo avuto diversi acciacchi, abbiamo programmato anche tutta una serie di situazioni in modo tale che ci facciano arrivare meglio a questo appuntamento.